Salve a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale, sono Filippo e sono qui con un video un po' tanto speciale. Il telo per l'occasione è tutto bianco, perché? Perché oggi, 22 luglio, giovedì, è il mio compleanno. Fortuna ha voluto che cadesse di giovedì, quindi in piena regola, con gli spacchettamenti. E lo spacchettamento di oggi è parecchio, parecchio speciale. Infatti abbiamo l'ATB Zassian Plus, di Sword and Shield. È un ATB parecchio, intanto è un ATB solamente in inglese, perché non è mai arrivato nel suolo italico, quindi non è disponibile nella nostra lingua. È un ATB parecchio costoso, perché si può trovare facilmente sopra i 100 dollari, però volevo togliermi uno sfizio, volevo farmi un regalo, anche se questo per essere precisi è il regalo di, e che mi ha fatto Mary, quindi il regalo di Mary. Mi ha detto vai, spacchetta e trova qualcosa, sperando di trovare qualcosa. L'ATB è veramente bello e io sinceramente non ho, non l'ho mai visto spacchettare da youtuber italiani, da... E non so neanche il perché, perché è un prodotto molto bello, sia dall'esterno, guardate questo nero e questo oro, guardate con la Pokéball qua, con la Pokéball, sia per il contenuto, che poi andremo a vedere nel dettaglio, non vi faccio vedere, non vi dico quello che c'è, perché vorrei che lo vedeste in tempo reale. Questo è quello di Zassia, hanno fatto anche quello di Zamazenta, magari vi porterò anche lo Zamazenta, non ce l'ho quello di Zamazenta, perché questo era un regalo, non sapevo neanche che mi sarebbe arrivato, Però, insomma, sono veramente, veramente contento di potervi portare questo ATB molto particolare. Ripeto, il prezzo è abbastanza alto e ci tengo a sottolinearlo perché io non ho alle spalle chi mi foraggia, non ho introiti da YouTube, tutto quello che vedete è preso di tasca mia, o in questo caso da tasca di Mary. Quindi, spero vivamente che vi piaccia e speriamo di andarlo a spacchettare. Nel mentre che io cerco di spacchettarlo, vi ringrazio tantissimo per aver resistito, insomma, con degli spacchettamenti vecchi, tra virgolette vecchi, e vi ringrazio sempre per tutti i commenti, ho risposto a tutti, posso rispondere un po' a tutti, alle condivisioni, agli iscritti, a veramente tutto, perché grazie, alla fine è merito anche e soprattutto vostro se io continuo a portare spacchettamenti, perché so che comunque vi diverte vederli. Guardate tanto questa, guardate che bella, guardate, allora, questo incarto dentro non ha nulla, però guardate, è veramente stupendo. Dietro, tra l'altro, c'è anche la Series Player Guide, vediamo, con un po' di carte miste, sì, perché fanno vedere un po' di carte delle varie espansioni. Queste espansioni, qua dentro, dovrebbe essere solamente il blocco Sword and Shield, ovviamente, quindi non dovrebbe esserci Destino Splendente, anzi, sono sicuro che non c'è. Queste sono delle promo, vi fa vedere tutte le promo che usciranno, o meglio, che sono già uscite, perché questo prodotto usciva prima che uscissero tutti i vari premium box e cazzi e mazzi vari, vedete, con anche le carte del playlist kit, fa vedere un po' tutto, queste sono le carte delle teen, questo era Toxtricity che ho portato, qua abbiamo le teen di Zassia e Zammateta che non ho mai portato, e questa era la carta che davano col premium, con la box, con anche la statuina, mi pare, di Pikachu and Friends. E qua continuano, vedete, tutte le carte promo, veramente, veramente, veramente bello, guardate, Eternatus, Eevee, Charizard, questo delle TB, bello, veramente bella, anche questa, questa non so neanche che esistesse, anche questa, veramente carina, e queste sono le due carte che si troveranno qua dentro, o meglio, nella versione Zassia si troverà la carta di Zassia, quella Zammazenta, quella di Zammazenta. Io vado ad aprire, e, mio Dio ragazzi, è bellissimo, è, io non ho parole, per quanto è, questa è la guida, non ci interessa, per quanto è bello, intanto vediamo di non spaccare tutto, perché vorrei tenere tutto il più sano possibile, è, una parola a, ok, qua non c'è nulla, no, non c'erano pacchetti nascosti, Allora abbiamo, la, guardate, la promo, Zassian V Gold, guardate che bella, Sword and Shield, numero 76, guardate, guardate, stupenda, è stupenda, io non l'apro neanche, pare anche, sì, abbastanza buona anche dietro, non l'apro neanche, Per ora la tengo chiusa, so che dovrei aprirla, ma, è, fa anche peccato, aprirla, poi abbiamo i divisori, guardate, cioè, questa è, è proprio roba di classe, raga, questa è roba veramente di classe, ringrazio veramente Mary, Carta codice, non so che ci sia in questa carta codice, io ve la regalo, e, ditemi nei commenti cosa avete trovato, perché, insomma, penso che già la carta codice valga abbastanza, Poi abbiamo, guardate che belle, le sleeve con Zassian, la pokeball d'oro, sapete che io le, guardate, belle, oro, 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 veramente oro, Eh, sapete che io le sleeve non le uso, queste qua, le tengo sempre chiuse, e queste a maggior ragione, sono veramente, veramente belle, poi abbiamo le buste, Che sono una spaccottiglia, poi le guarderemo bene nel dettaglio, ma non l'abbiamo mica finito, raga, no, no, abbiamo, guardate qua, abbiamo i dadi, E, ragazzi, i dadi sono pesanti, non sono in plastica, sono in metallo, sono in metallo, cioè, sono veramente pesanti, sono in metallo, guardate che belli, fa persino peccato toccarli, Cioè, si sente che sono pesanti, si sente decisamente tanto che sono pesanti, e poi le monete, e anche questi, avvelenamento e paralisi, scotatura, e la moneta, Sono anche questi in metallo, comunque, sono, non è plastica, raga, non è assolutamente plastica, anche, e anche la moneta, guardate che, cioè, guarda, ditemi, se non è stupenda questa moneta, Cioè, sentite che è pesante, si sente che non è plasticone, e abbiamo infine le, le pacchette, abbiamo un vivid, abbiamo un voltaggio sfolgorante, in, tre per, Tre per di voltaggio sfolgorante, poi, oscurità, tre per, fra gole ribelle, quindi abbiamo tre, sei, nove, dodici buste, quindi, questa è la, è la più, è la meno recente, cioè, da quando è uscito, quindi, Andiamo dalla più vecchia, cioè, dall'inci, dall'inizio, fino alla fine, qui abbiamo dodici buste, quindi un sacco di codici, ma, raga, Cioè, allora, per me, già così è tanta roba, perché è un pezzo veramente bello, mi ha fatto quasi peccato aprirlo, sono onesto, però, era una cosa speciale, era una, Alla fine è il mio compleanno, ho voluto comunque tenderlo, ho voluto comunque aprirlo, e farvi vedere tutta sta gran roba, ripeto, le carte sono solo in inglese, questa edizione è solo in inglese, E spero di, di schiappare, insomma, in dodici buste, vuoi non trovare almeno quattro V, cinque V, spererei, per carità, magari trovo il nulla in dodici buste, Qua abbiamo un interior intanto foil, magari trovo il nulla in dodici buste, però, il fatto, anche solo di aver portato, eh, una cosa così, e di averla, nella, nella mia collezione, Per quanto non sealed, perché leggo anche nei commenti vostri, che mi chiedete dove hai comprato quella cosa, perché io la cerco sealed, sapete che io, le cose sealed non mi interessano, Perché non ho l'interesse nel tenere una cosa chiusa, e magari rivenderla fra quattro, cinque, dieci, vent'anni a chissà che prezzo, a me piace aprire un prodotto, mi piace tenermelo, mi piace gustarmelo, E mi piace vivermelo, insomma, a maggior ragione anche perché è un bellissimo regalo, quindi speriamo che Mary ci abbia portato bene, speriamo. E sicuramente non sarà l'ultimo, perché comunque, cioè, non sarà l'ultimo regalo, l'unico regalo che ricevo, compiandoci anche il mio regalo di mezzo, Però io mi sono semplicemente regalato un joypad, la coppia di joycon, quelli di Zelda, quelli per la Switch, mi sono fatto un regalo così, e quindi quelli sono di là chiusi, sinistri e turtonetro, ok? Il pacco di sword and shield non ci ha dato niente, quindi cominciamo anche abbastanza male, tra virgolette, ma non importa, cioè oggi è il mio compleanno, E non c'è niente che possa farmi incazzare, farmi desistere, farmi demoralizzare niente, oggi è una giornata speciale, e lo sarà fino alla fine, anche se non dovesse trovare nulla, cosa che spero che non accada, perché vorrei trovare quantomeno qualche rara, Soprattutto sul pacco, quella del blaze, cioè degli ultimi due, scusate, V voltage e darkness blaze, perché so che la c'è il Chisard V, e qua, e qua, Toxtricity V, ok, prima V, quarto pacchetto, Quindi siamo in linea, una V ogni quattro pacchetti con le mie team più sfigate, bello, bello, mi pare che ce l'avessi già in versione italica, ma non sono sicuro, comunque, intanto è la prima V in quattro buste, Se dovesse rimanere la mia media classica, dovrei trovarne ancora due, nelle altre otto buste, spero che però, sendo il mio compleanno, che la Dea Bendata mi faccia un regalo, mi faccia schiappare un po' di più, Abbiamo Skyla, che poi qua sono i nomi in inglese, Litwick, Shinx, Rolly Collie, Upplin, Athenie, Barbacle e Butterflee, ok, quindi bustina molto tranquilla, tranquifanchi, E siamo con l'ultimo di Rebel Crash, Fragore Ribelle, che mi ha dato solamente Toxtricity per ora, quindi, ok, potrebbe andare decisamente molto meglio, Comunque, se vedo che questo episodio, raga, se vedo che questo video vi piace, io apro le finanze e mi procuro anche quella di Zanazenta, anche la versione di Scudo, l'ho detto, sapete che se io dico una cosa la prometto, dipende da voi, Quindi supportate questo video, commentando, condividendo, iscrivendo, lasciate un bel pollicione di su, e tanti tanti bei commenti, che a me fa sempre piacere leggerli, e rispondervi, Voi, fatemi questo regalo, e io vedrò di recuperare, ovviamente magari non subito, ma appena riesco, il fratello, la versione di Scudo, appunto. Adesso siamo con Darkness Ablaze, e vediamo di reperire. Qua si potrebbe trovare Charizard, non voglio avere la presunzione di dire che lo trovo, per carità, Però, magari, un bel regalino, Danspars, Clink, Pokémon Breeders Neutering e Hippodown, niente. Abbiamo ancora, però, due pacchetti di Darkness Ablaze, e poi abbiamo Voltaggio Sfolgorante. Qua c'è Charizard disegnato, spero che mi porti bene, ma poi, fino all'ultimo, non si può dire niente. Viva il Voltage, Voltaggio Sfolgorante, c'è Pikachu Hyper, ci sono le prime carte Amazing, o Policrome, chiamatene un po' come volete. Energia Metallo, Poltgeist, Solrock, Kabu, Starly, Scarmory, Pansage, Electraic, Fletching, Wishy Washy e un bel Dark Rye Foil. Bello, 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 però, però, siamo sotto la media, quindi, o negli ultimi quattro pacchetti sfondo la media, oppure sarà stata effettivamente una collezione sotto media, però, insomma, raga, succede. Del resto, il gioco di carte, lo spacchettare, è bello anche per questo, perché non sai mai quello che ti può capitare. Energia, Solrock, Stini, qua c'era un Merli nascosto, Torchic, Starly, Scarmory in altro, Pansage, Giglipa e Axelgor. Peccato, non abbiamo trovato, ma, del resto in tre bustine, per trovare il V-Max Shiny, ci ho perso mesi e anni della mia vita, quindi un po' difficile, in solamente tre pacchetti, trovare un Charizard, però, insomma, speriamo che almeno questo, gli ultimi tre pacchetti, ci sia qualcosa di più gozzo. Poi, ovvio che non dipende da quello che è, da Meri, perché lei ha scelto, insomma, Cramorant, Kakuna, Slugma, Wismur, Execute, Vubat, Beldu, un altro Vubat e Darmanitan V di Galar. Carino, mi mancava, mi pare, molto, molto carino, a quantomeno è una V, 36. Però, ovviamente, la mia sfortuna si fa sempre presente, perché è doppio Vubat in un pacchetto. E io, da quella brutta sensazione di doppie carte, della stessa carta, sia foil che non foil, nello stesso pacchetto, ma in questo caso reverse e non reverse, non me la toglierà mai nessuno. Carta codice, e qua abbiamo, allora, Energia Lotta, altra energia, Shackle, Delmice, Ferrosid, Riolu, Sandile, Whelmer, Weedle, Shiftry e Ninjask. Ok, ok, poteva andare meglio. Abbiamo l'ultimo pacchetto, però, qui, Mari, fino all'ultimo, sapete che non è mai detto, però, insomma, per ora, 2V in 11 buste non è il drop migliore della mia vita, anzi, contando anche la quantità di bustine, forse anche... C'è qualcosa qua. Però qua c'è qualcosa. Però qua c'è qualcosa. Vuoi vedere che finisco discretamente bene? Vuoi vedere... Ah, no, mi ha tratto in inganno la filatura del formaggio Mumu. Che peccato! Eh sì, perché era così, era così. E ho intravisto... Vedete? Pareva chissà cosa, invece era il formaggio Mumu. Formaggio Mumu e Forretress. Peccato, ragazzi, peccato. Ci ho sperato. 2V in 12 buste non è effettivamente il massimo. Però io sono comunque contento. I primi, perché era un regalo. E un bel regalo. Secondo, perché è una collezione di tutto rispetto. Una cosa parecchio unica. Mi dispiace per il drop. Però, se voi la supporterete, supporterete questo video, io potrei pensare di prendermi quella di Zamazenta. E magari ritentare la fortuna. Per ora, però, ragazzi, vi saluto. Grazie per avermi seguito. Io vado a fare festa. Ciao!